Entrambi i portieri hanno fatto molto bene in questa partita, Agassà per il Reims e manda andare per noi, ma dobbiamo essere più lucidi, sottoporta se vogliamo segnare, è difficile per me al momento dirigere le operazioni a causa di molti giocatori infortunati o squalificati, dobbiamo fare di necessità virtù con molti giovani in panchina e speriamo che migliorino piano piano.